Forza Lazio! Italiane ed estere, Gazzetta dello Sport, Fox Sports, Kikker, hai dato un corso che può interessarvi. Vogliamo insegnarvi la differenza tra notizie da carta stampata e notizie per il mondo online. Vogliamo insegnarvi la vita da inviato? Vogliamo insegnarvi a fare le interviste e come si lavora da corrispondente anche per giornali esteri. Vogliamo insegnarvi a creare dei servizi? Insomma, vogliamo aiutarvi a diventare giornalisti. Oltre al nostro direttore, terranno le lezioni alcuni giornalisti delle più importanti emittenti nazionali. I migliori del corso entreranno a far parte della nostra redazione, ma non solo di Lazio Polis. Abbiamo infatti in servo alcune sorprese. Se siete interessati o conoscete qualcuno che potrebbe esserlo, indipendentemente dalla squadra che tifa, contattateci su laziopolis-gmail.com o attraverso la nostra pagina Facebook. Se sognate di fare questo mestiere, questa potrebbe essere l'occasione giusta, proprio quella che stavate aspettando.